ciao a tutti benvenuti a un altro tutorial di termoidraulica rv dedicato al mondo del trattamento acqua oggi introduciamo un tema che è molto comune e che ci chiedete spesso cioè che cos'è un osmosi inversa e come funziona un osmosi inversa e soprattutto se consiglieremmo noi uno osmosi inversa sempre in ogni occasione oppure se ci sono dei casi per cui l'osmosi inversa non è necessario prevediamo tutte queste cose oggi intanto partiamo da una considerazione di base cioè che cos'è l'osmosi inversa l'osmosi inversa è un particolare sistema di trattamento acqua che mira a separare il solvente dal soluto cioè nel senso io ho un'acqua carica di sali minerali attraverso il sistema osmosi inversa io vado a separare il solvente cioè l'acqua dal soluto cioè sali minerali presenti in quell'acqua in che misura i sistemi osmosi inversa montano una membrana osmotica proprio il principio dell'osmosi inversa fa sì che al passaggio dell'acqua attraverso la membrana osmotica ci sia appunto questa separazione tra solvente e soluto nell'ordine del 95 98 per cento quindi che cosa passa passa soltanto quello che molecola idrofila cioè acqua tutto il resto viene scartato dal sistema osmosi inversa è un sistema molto utile soprattutto se abbiamo dei problemi importanti nell'acqua io magari sono zone in italia con una forte presenza di arsenico o di nitrati questa soluzione dell'osmosi inversa è in grado appunto di scartare l'arsenico e di garantire acqua appunto osmotizzata questa cosmo tizzata però è come se fosse un'acqua distillata quindi dobbiamo regolare in uscita quest'acqua in modo tale da fornire comunque ad essa il giusto apporto di sali minerali quindi che cosa succede ogni sistema osmosi inversa ha un proprio regolatore cioè va a miscelare acqua osmotizzata con acqua non osmotizzata nella misura che viene decisa dall'utente considerate che per limite di legge un'acqua dovrebbe avere massimo 1500 ppm come residuo fisso controllate sempre questo valore in uscita e fate in modo che appunto l'acqua rispetti di determinati tipi di parametri e che comunque contenga dei sali minerali perché l'acqua deve contenere dei sali minerali se il problema come abbiamo detto prima magari è l'arsenico per cui non vogliamo che ci sia una miscelazione di acqua osmotizzata con acqua non osmotizzata appunto dovuto al fatto che c'è l'arsenico dentro possiamo utilizzare un filtro remineralizzatore e regolatore del pH in uscita in modo tale da regolare appunto tramite questo filtro il giusto apporto dei sali minerali il giusto piazza dell'acqua vediamo come funziona un osmosi inversa io qui a fianco a me ho un sistema osmosi inversa con accumulo ci sono di due tipologie con accumulo e senza accumulo l'accumulo fa sì che l'acqua che arriva al rubinetto abbia una giusta portata una giusta pressione laddove le portate le pressioni dell'acquedotto magari non siano sufficienti per garantire appunto un'acqua al punto d'uso adeguata per cui si utilizza un serbatoio d'accumulo quando si utilizza un serbatoio d'accumulo il sistema osmosi inversa da che cosa è composto andato da più stadi l'acqua passa inizialmente da un filtro sedimento poi un filtro a carbone poi c'è una pompa come in questo caso l'app 7000 una pompa booster che spinge l'acqua verso la membrana perché perché l'osmosi inversa al principio dell'osmosi inversa ha un senso se c'è una pressione dagli 8 e 10 bar che spinge l'acqua verso la parete della membrana creando appunto quella separazione tra solvente e soluto l'acqua poi una volta passata dall'osmosi inversa in questo caso entra nel serbatoio d'accumulo dal serbatoio d'accumulo poi quando c'è richiesta d'acqua arriva appunto al rubinetto quando c'è un discorso di questo tipo con appunto il serbatoio è importante che dopo il serbatoio ci sia una lampada UV la lampada UV che è integrata sempre nel macchinario fa sì che un'eventuale carica batterica presenta all'interno del serbatoio perché dove c'è il serbatoio ci potrebbe essere sempre una carica batterica possibile ma comunque sì che questa carica eventuale batterica venga neutralizzata ok per cui non c'è il rischio di bere acqua con carica batterica quindi qui in questo caso vediamo i filtri che sono il filtro in polipropileno soffiato sedimenti o carbone poi l'acqua entra attraverso la pompa nell'osmosi inversa e dall'osmosi inversa va nell'ulteriore filtro che è l'ultimo stadio di filtrazione o di come dicevamo prima reminerizzazione in questo caso abbiamo un filtro reminerizzatore e regolatore del pH che va appunto a regolare in uscita il giusto rapporto ai sali minerali e il giusto pH per un'acqua potabile considerate che un'acqua oligominerale ha un valore che si aggira intorno ai 100 150 ppm come residuo fisso voi quando prendete un'osmosi inversa controllate sempre questo valore in modo tale da fare in modo che sia un'acqua se non altro oligominerale o comunque minerale è sempre utile un'osmosi inversa no perché un'osmosi inversa ha un senso e una logica installarlo in situazioni particolari per esempio dopo un addolcitore l'addolcitore come abbiamo detto nei precedenti video rilascia sodio nell'acqua quindi avere un'osmosi inversa che abbatte questo sodio perché il sodio comunque è un sale minerale quindi alza il livello il TDS dell'acqua e l'osmosi inversa lo andrebbe a regolare a sua volta per cui ha un senso quando si parla per esempio di addolcimento dopo l'addolcimento o dopo in caso di situazioni particolari come abbiamo detto prima io faccio sempre l'esempio di Orvieto perché noi stiamo qui a Orvieto l'acqua è un'acqua oligominerale che viene dall'acquedotto per cui avere un'osmosi inversa dentro casa a Orvieto ha poco senso ecco perché dico che magari qualche volta è meglio una microcentrazione costa anche meno e ha un ottimo risultato un'ultima resa per cui partiamo sempre da delle analisi non smetterò mai di dirlo partiamo sempre da delle analisi dell'acqua perché da lì che capiamo qual è il sistema più adatto alle vostre esigenze detto questo va bene un'osmosi inversa per abbattere il calcare no nel senso che lo fa ma non è per questo che viene installato un sistema osmosi inversa l'osmosi inversa abbatte il calcare ma la membrana osmotica che in media viene sostituita ogni due tre anni con una forte presenza di calcare si esaurirebbe subito per cui dovremmo cambiare la membrana con cadenza anche bimensile o semestrale comunque molto si esaurirebbe molto più rapidamente rispetto a un normale utilizzo per cui abbatte il calcare ma non è per questo che l'osmosi inversa viene montato se avete problema di calcare puntate su un addolcitore l'osmosi inversa rende l'acqua potabile questa è un'altra domanda che ci fate la risposta è no non è un potabilizzatore di acqua è vero che elimina diversi componenti dell'acqua eventualmente in eccesso come l'arsenico come i nitrati ma se noi abbiamo un'acqua di pozzo e la vogliamo rendere potabile quindi chiaramente non è il caso di un acqua di acquedotto che di base è già potabile quindi se noi vogliamo rendere potabile un'acqua di pozzo dobbiamo basarci sul sistema differenti sistemi ovvi sistemi di clorazione proporzionale per simulare quello che succede all'interno di un acquedotto cittadino per cui la clorazione la disinfezione l'acqua arriva al punto d'uso magari al punto d'uso la possiamo regolare attraverso un sistema a carbone quindi microfiltrazione o se necessario un sistema osmosi inversa andremo a studiare i singoli componenti di un osmosi inversa quindi capiremo come funzionano nella pratica un sistema osmosi inversa e come si installa un sistema a osmosi inversa quindi continuate a seguirci i nostri canali social e continuate a scriverci a farci domande perché i nostri tutorial si basano sulle vostre domande per cui fateci più domande possibili noi saremo lieti di rispondervi io adesso vi saluto vi do appuntamento al prossimo video ciao